La nostra diocesi da sempre ha una grande attenzione per i catechisti che sono numerosi che sono anche portatori di una grande responsabilità e soprattutto l'inizio dell'anno, cioè sempre la giornata dei catechisti alla quale naturalmente partecipa il nostro Vescovo che dà a ciascuno il mandato per cui loro lo ricevono ma lei che cosa chiede ai nostri catechisti nel consegnare a loro questo mandato? Ho parlato ai catechisti di un ministero e quindi sono al servizio collaboratori di quel progetto che è il progetto di Dio e questo progetto di Dio passa attraverso le mani del Vescovo, passa attraverso le mani dei sacerdoti, naturalmente dei genitori, ma i catechisti sono davvero al servizio sia dei genitori per la trasmissione della fede e sia anche il servizio dei sacerdoti e del Vescovo, quindi si tratta davvero di un grande ministero, di un grande servizio e io sono molto contento che ci sia nella nostra diocese questa bella tradizione di una attività catechetica che non guarda solo al fare, non guarda solo alla didattica o alle metodologie che pure sono importanti per trasmettere la fede, ma si sofferma soprattutto su ciò che è veramente fondamentale e che io riassumo così, possiamo insegnare ciò che viviamo e quindi la nostra testimonianza è davvero fondamentale, possiamo esprimere la verità e la bellezza della fede nel momento in cui noi viviamo di quella fede bella e che diventa professata e testimonianza, ma il secondo aspetto della trasmissione della fede attraverso il ministero dei catechisti vuol dire anche puntare molto sulla dottrina, sulla verità cristiana, non è un'accozzaglia di tante cose, la verità cristiana è come una sorta di sinfonia, nella sinfonia c'è una melodia davvero centrale e questa melodia centrale che deve essere comunicata, che deve essere trasmessa, parte naturalmente dal mistero stesso di Dio, da Dio che è padre, che desidera la nostra salvezza, che ci dona il suo figlio per la nostra vita, per la nostra salvezza con l'opera dello spirito che è Signore dalla vita. Ecco questa è la melodia di fondo di questa bella sinfonia che i catechisti devono eseguire insieme con i ragazzi e con i giovani. Quindi un compito impegnativo per i nostri catechisti che proprio dalla nostra diocesi non vengono assolutamente mai abbandonati, anzi sono sempre numerosi i momenti di formazione, c'è proprio addirittura questo corso che li accompagna con periodicità, proprio perché loro si tengano uniti tra di loro, ma soprattutto aggiornati nel senso più profondo che lei citava prima e al primo di questi incontri è presente proprio il nostro Vescovo. Sì perché mi pare che sia buona cosa aiutare questi nostri catechisti così preziosi nel loro servizio, aiutarli dicevo perché abbiano una visione integrale della vita cristiana e sappiano anche tenere conto di quei temi che sono un po' all'ordine del giorno e che fanno parte e segnano la vita dei nostri ragazzi e dei nostri giovani. Penso ad esempio avere come tema sull'orizzonte grande della comunicazione della fede la questione del senso della vita. Ecco noi dobbiamo arrivare a comprendere che attraverso quell'insegnamento, attraverso quella testimonianza, noi comunichiamo ciò che un ragazzo desidera, il senso della vita e il senso della vita vuol dire sentirsi amati e avere la possibilità di amare. Ecco perché in questi incontri di formazione puntiamo proprio a tener conto dello sfondo generale, ma poi anche dei contenuti concreti perché il mistero cristiano è poi il mistero di questo amore di Dio per noi che si svela progressivamente in Cristo e siamo davvero con Cristo capaci di essere figli di Dio e questo vuol dire venire incontro a quel desiderio di amore che è presente nel cuore di tutti, a quel bisogno di dare un senso alla nostra vita perché come sappiamo spesso manca questo senso della vita anche per i nostri giovani. Allora l'aiuto, la collaborazione, la disponibilità dei catechisti va anche incontro appunto a questo desiderio ben presente nel cuore dei nostri giovani. Faccio un'ultima domanda perché alla giornata dei catechisti di domenica scorsa si è parlato anche della catechesi degli adulti perché insomma noi siamo sempre abituati a pensare che la catechesi abbia a che fare con l'iniziazione ed è in parte vero ma c'è anche tutta una fetta di adulti perché poi adulti si diventa e si rimane per più tempo direi, quindi la formazione dovrebbe continuare. Si fa forse più fatica a portare avanti una catechesi per adulti o no? Può darsi di sì però se ci rendiamo conto che abbiamo sempre in ogni campo bisogno come dire di una formazione permanente proprio perché il mondo va avanti, il mondo cammina, proprio perché vi sono tanti cambiamenti e abbiamo bisogno di essere in qualche modo sempre aiutati e illuminati e questo vale anche naturalmente nell'ambito della catechesi. Per molti versi il modello vero di catechesi è la catechesi all'adulto perché è invitato a prendere coscienza della sua fede e a confrontare le verità della fede con la ragione umana, con la cultura, proprio per dare un fondamento stabile, solido al suo credere, alla sua testimonianza di vita. Questo vale per l'adulto superando un po' le difficoltà che sono poi quelle di sempre, la difficoltà di trovare il tempo, la difficoltà anche di trovare qualcuno che ti aiuti a camminare, però appunto superando queste difficoltà anche la figura dell'adulto deve essere davvero una figura capace di accogliere il mistero della fede per dare a questo mistero un fondamento solido in modo da poter così comunicare con la propria parola e con la propria vita ai figli e anche alla società il grande mistero della vita, il grande mistero di Dio. Dio.